Sono Alberto Muscio, sono un docente del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena Reggio Emilia. In questa sede ho presentato il progetto MAIN, che è un acronimo che sta per materiali intelligenti. Il progetto MAIN è un progetto che è stato cofinanziato dal programma MED dell'Unione Europea ed è finalizzato a incentivare, a promuovere l'utilizzo dei materiali cosiddetti cool. Cool vuol dire in inglese freddo, parliamo in particolare di materiali tipo cool roof o cool payments. Trimmo tradurlo in italiano, tetti freddi o pavimenti freddi, anche se in realtà nel gergo tecnico il termine non viene più tradotto. Sono materiali che hanno una elevatissima capacità di riflettere la radiazione solare e di riemettere nell'infrarosso la radiazione che viene comunque assorbita. Parliamo di materiali ormai commerciali e che sono una riscoperta tecnologica perché parliamo di prestazioni certificate di ciò che nell'area mediterranea si fa ormai da millenni. Il progetto MAIN, materiali intelligenti, si propone di promuovere l'utilizzo di questi materiali che al momento anche in Italia, doveppure sarebbero estremamente utili, interessanti e scarso, attraverso tutta una serie di attività. Un'attività su cui si infulca il progetto è quella della formazione dei tecnici e infatti partiranno qui all'Aes a Modena, per la zona di Modena, poi in simultanea in svariate altre località nel sud Europa, corsi per tecnici finalizzati a far conoscere questi materiali, le diverse tipologie realizzative, le problematiche di progettazione, di installazione e anche di calcolo delle prestazioni degli edifici. Il progetto sta entrando adesso nella sua fase centrale e quindi rimanete sintonizzati per sapere quando partiranno i corsi entro la fine dell'anno e altre informazioni che il progetto arriverà a produrre.